A fare ogni settimana il punto sulla sanità ci aiuterà il dottor Walter Zalucar per lungo tempo primario del pronto soccorso e ancora prima del 118. Attualmente il dottor Zalucar è presidente dell'associazione Costituzione 32. Dottor Zalucar buongiorno, parliamo di sanità, l'assessore Telesca recentemente ha parlato di grandi vantaggi derivanti dalla riforma sanitaria soprattutto verso gli anziani, è così? No, credo che ci troviamo dinnanzi una vera e propria dissociazione tra gli annunci e la realtà effettiva. Gli annunci sono per loro natura astratti, la realtà invece si misura concretamente sui deficit di cura e di assistenza che i malati provano sulla loro pelle. Può fare un esempio dottor Zalucar? Sì, mi pare eclatante la vicenda dei centri di assistenza primaria, i cosiddetti CAP, dovevano essere il centro di riferimento per il sistema sanitario pubblico aperti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dove i cittadini avrebbero dovuto trovare risposte ai loro bisogni di salute. E invece? Ma invece il bilancio è desolante. Degli otto CAP previsti a Trieste ne funziona uno solo, quello di Muggia, tra l'altro non a pieno regime, mentre di altri tre o quattro sono state costruite le mura, però sono per lo più inattivi. I CAP però dovevano limitare gli accessi all'ospedale? Ah, ma questa era un'illusione. Ma su questa illusione si sono tagliati letti e reparti ospedalieri e oggi Catinara scoppia. Chi ne fa le spese? Il pronto soccorso? E' proprio così. Il pronto soccorso si trova tra l'incudine e il martello, dal territorio aumentano gli accessi, l'ospedale non riesce a ricoverare, quindi il pronto soccorso si intasa e i tempi di attesa diventano biblici. Però, dottor Zalucari, il pronto soccorso è stato potenziato? No, gli annunci sono stati potenziati. In realtà le risorse di quest'anno sono inferiori agli anni precedenti. Ad esempio, nelle ultime settimane i medici di turno al pronto soccorso di Catinara a fronte di 40-50 pazienti erano soltanto tre. L'anno scorso erano quattro, quindi vuol dire il 25% in meno. E questo ha ovviamente conseguenze sulla lunghezza dei tempi di attesa, ma anche sui livelli di sicurezza.